...che c'è pace! Ehm, chat, se crede di averla scisa, guardate come spaventato! Ben distanza quel mostro! Ah! Uh, ma salate! Adoro questo pezzo! Occhio a Eiji! È proprio uno spazio, ma alla fine è stato Duncan, col suo indimenticabile monologo a portare le possibilità di... Oh, il parlo! Ma sicuramente la nostra di la parana! Ah, eh! Io mi ricordo ancora quando si è travestita da Bimbi e quando ha fatto la piscina e la piscina, allo palo gusto della lista dei più ricercati dalla polizia, intri aria Careno Focchio! Oh, oh, oh! Oh, come ha fatto il mio nome? Ah, 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 ah! Ehi, sei la palla in cielo! Careno! Bravo! Ciao, ciao! Come si è piaciuto? Fantastico averti con noi! Malediciamo! Sì, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più. Sì, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più.